Ciao a tutti sono SpiegeronToto e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale Come andate questo è un video soft, infatti stiamo giocando a Happy Wheels con la webcam Scusate ma non nel tempo, nel, come dire, i mezzi per registrare un video pesante tipo, che ne so, Techcraft Prima perché non posso registrare in questo momento Techcraft perché il server sta tipo facendo aggiornamenti Con il server intendo il computer che uso come server, in realtà non è proprio un server comunque E niente scusate per il mio schifosissimo corpo nudo, no scusate se ho un petto nudo ma c'è un caldo che non avete idea Qui in Sardegna mamma mia fa un caldo della madocina Quindi iniziamo subito, adesso guardo un po' più giù, qui perché qua c'è Happy Wheels Mentre lassù c'è la telecamera, sì, quindi guardiamo giù Ok, questa è la mia prima registrazione di Happy Wheels che faccio in tutta la mia vita Il mio secondo video con la webcam, quindi Yeah Quindi niente, adesso si rinchiccio di là la webcam Andrà nell'angolino Perfetto, adesso iniziamo a giocare a Happy Wheels Vi faccio una premessa Faccio cacare perché non ho mai giocato Cioè soltanto così a livello Ehi, proviamo Quindi facciamo così, mettiamo rating, così le metto in ordine di punteggio appunto, di rating Cosa abbiamo qui? Slender the Movie? No, non mi ispira Torture Justin Bieber? Yes Proviamo Non so neanche i controlli, quindi I controlli Allora, è Shift-Ctrl-Z E più le fracette Hey, poons Oh, voglio l'audio Dove si mette l'audio? Menu Hey Swords Uccidatelo Why? Because you are a motherfucker And Non conosco i controlli YOL Flex Ok Boom, baby Ma le metto 5 stelle Thanks Exit to menu Devo abituarmi Ah, scusate, sto facendo dondolare la camera, ma non è colpa mia Cioè, sì, è colpa mia, però no Optical Illusion Earthquake Simulator Sword Throw So cosa sono, quindi mi piace Allora, vediamo un pochino Era così Era così Yes Due in uno Yeah No Va bene Restai Ce lo devo fare Restai it Ma che cazzo sto a dire E la madonna, che bravura E la madonna, che bravura Ok, non ce la posso fare Ma lo voglio riprovare l'ultima volta Poi passiamo subito a un altro Perché mi ha già rotto L'Izebedei Ok Quello è impossibile, ninja E invece no E guardate quel colpo di maestro che ho fatto Mamma mia Olè Olè Oddio, mi dispiè L'ultima spada Ce la devo fare Ho vinto Ehi Ho vinto No Ho vinto, bastardo Rate Five and save Replay if you won Ho vinto Puttana Ho vinto Tecnicamente ho vinto Non legalmente Ma tecnicamente Sì Battle run What the fuck is this Vabbè, proviamo Oh fuck Ma che cazzo è SQPR No Sì Restart Vediamo un pochino Sì, ho perso il bambino Ma non fa niente Oh yeah Mi piazza Mi piazza per davvero No, non restart Non restart Exit Passiamo a Easy but run No, ho già fatto Slum dunk What the fuck No, ma che cazzo è Lì Ma che cazzo Ok Questa parte Non esiste Io non ho vinto Ma che cazzo ho vinto Va bene Passiamo a Non ho letto il titolo Bene Ma defa Is this Sto guidando la barca Ma che cazzo Uh Ti do 5 secondi per darmi qualcosa di avventuroso e di simpatica Sono chiudendo la barca Aspettate un attimo Ok Torno subito Eccomi qua Ora ho abbassato un po' il volume del computer Perché mi sa che era insopportabile No Tu non sei niente Exit Toon menu Allora Slow motion Slow motion What? Perché slow motion Ah perché si può anche vivere? No Oh yes Sono vivo Sono vivo Sì Ehm Non lo farò però Voglio rivederlo Olè Colpo di maestro col tavolo La spada mi trafiggia male E' un piazza Sono bravo Sono bravo Sì 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 Per essere la prima volta che gioco ai P-Wills Cioè Prima volta Parliamo Non è la prima volta Intendo la prima volta Seriamente Mi dispiace bambino Ma che cazzo è Sono ancora vivo Sono ancora vivo Eppure sono ancora vivo I'm sexy and I know it Ehm sì Voglio riprovare Perché forse ho capito come funziona Ehm sì No Ok Ehm sì Andiamo avanti Ultimate BMX Ehm sì Proviamo Ma che so Che fa Che fa Oh what the fuck Ok Ok Ora conosco il pericolo Ce la faccio Ma è impossibile Sì sono ancora Non vivo Come razzo faccio Ah ok Oh scusa Oh scusa Oh cazzo Ma che cazzo Voglio rivedere il replay Sono salito Ho camminato Olè ce l'ho fatta Ho saltato qui Io non so come ho ammazzato il bambino Sono caduto Ho rotolato un pochino Sì Poi ho cercato a acchiapparmi a legno Ce la sono Ci sono riuscita E poi ho tolto la mia stagione What the fuck Ho fatto un casino Va bene Ma io la voglio salvare questa Ehm UTF Sì Ehm Andiamo avanti Credo che questo sia l'ultimo Perché Ho tipo finito il tempo Don't move Mi piace Non mi devo muovere Faccio la telepronaca O lei Il bambino viene perso Ma non serve a niente Quindi ok Salto E rischia la vita Ma ce la fa Viene Oh oh Fail No non è un fail Porco Oh cazzo Ok Entra Mamma mia la telepronaca Cioè tentano di arpionarmi Ma non ce la fanno Io salto Io Lui salta 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 Fa un giro della madocina Ma continua Imperterrito Da una testata Ma continua Olè Il cannone Prende la bici La spara Tra 3 2 1 Boom Arriva Olè Salta Risalta Risalta Oh porca cacca Ok ce la fa Dei cosi mi fanno saltare ancora Olè Ok Faccio un 5 stelle E sa montana No Questa pubblicità occulta Si mi pagano fior di quattrini Ok Io sono Spiegelaventotto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate sempre su twitter Google plus Sul mio sito Spiegelaventotto Punto x10 Punto mx Su facebook Digitando facebook.com Slash Spiegelaventotto Ufficial E insomma Sui vari Sui vari social Insomma Lo sapete tutti Lo trovate tutto Nella descrizione Del video Spero vi piace Questa serie Vi piace anche Il fatto di avere La webcam Che in realtà Non è una webcam Però la chiamo webcam E il fatto di avere La telecamera Ecco Che mi prende in faccia La mia bellissima faccia Proprio Olè E niente Io sono Spiegelaventotto Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video Ciao